La buona notizia è che Eugenio Sciabica si è insediato, quindi almeno per il momento nessuna repentina dimissione come avvenne in passato con la vicenda dei Grassi di Lallo. Inoltre, da quanto si legge nella comunicazione che porta alla data di ieri, 16 maggio, indirizzata prima di tutto al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro della Calabria Massimo Scura, Sciabica confida nella massima collaborazione in merito ad eventuali richieste istruttorie. Insomma, siamo di fronte all'ennesimo passaggio burocratico che apre però uno spiraio di speranza. Con questa comunicazione sciabica confermerebbe la volontà di iniziare a prendere in esame la sentenza del Consiglio di Stato del 13 marzo scorso che ha ribadito l'illegittima riconversione dell'ospedale di Praia Mare in capto Casa della Salute. Ciò vuol dire che adesso comincerà quella fase interlocutoria con i sindaci dei comuni di Tortore e di Praia Mare, soprattutto con il commissario ad acta alla sanità calabrese Massimo Scura. Ora il discorso verterà sicuramente sulla proposta di riorganizzazione del nostro comio praiese sottoscritta da Praticò e da Lamboglia. Certamente c'è un aspetto importante, anzi fondamentale. Nulla si può davvero muovere senza il famigerato decreto che riconverte il CAPT in ospedale, reintroducendolo così nella rete dell'emergenza urgenza. Poi si potranno fare tutti i discorsi che si vogliono, ma prima ci vuole questo atto. Ma senza lanciarci in sensazionalismi o ipotesi, apprendiamo solo che Eugenio Sciabica, delegato da Andrea Orbani, si è insediato. Ora dobbiamo solo sperare che non si verifichino improvvisi colpi di scena. Infatti non dobbiamo dimenticare quanto avvenuto nel dicembre del 2015, quando prima Floride Grassi, poi Domenico Di Lallo decisero di dimettersi e di rinunciare all'incarico da commissari esecutori della sentenza del Consiglio di Stato, con il risultato di arrivare ad oggi con tre dispositivi in favore del CAPT di Praia Mare, ma senza nessun evidente traguardo raggiunto 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 Grazie a tutti